Operazione Valle dei Templi della Guardia di Finanza di Palermo, apposti i sigilli all'impero economico di Calogero Romano, imprenditore colluso con la mafia. Corruzione, quattro arresti tra Caltanissetta, Catania e Messina. Accertati vari episodi di truffa aggravata. A Palermo, domani 8 marzo, giornata della donna. Il maestro Krav Magag, Mauro Labita, organizza uno stage anti-aggressione femminile. Ben trovati alla seconda edizione di Media News di mercoledì 7 marzo. Operazione Valle dei Templi della Guardia di Finanza di Palermo, apposti i sigilli all'impero economico di Calogero Romano, imprenditore colluso con la mafia. E sottoposti a sequestro complessi aziendali e disponibilità finanziarie per oltre 120 milioni di euro. Sequestrati aziende immobile, auto e conti correnti nella disponibilità di Calogero Romano, noto imprenditore originario di Racalmuto, per un valore complessivo di oltre 120 milioni di euro. Le indagini, svolte dalle fiamme gialle e coordinate dalla Procura della Repubblica di Palermo, hanno consentito di ricondurre il successo delle iniziative imprenditoriali di Romano ai rapporti di connivenza intrattenuti nell'arco di 20 anni con esponenti di spicco di Cosa Nostra Agrigentina. Nel 2016 Calogero Romano è stato infatti condannato dal Tribunale di Agrigento alla pena di 6 anni e 6 mesi in reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa per avere contribuito al rafforzamento di Cosa Nostra, pur non facendone parte, fino a quando il suo principale punto di riferimento, il mafioso Ignazio Gagliardo, non entrò nel programma di protezione per i collaboratori di giustizia. Lo stesso aveva intrattenuto rapporti diretti con Cosa Nostra Agrigentina, beneficiando dell'appoggio e della protezione di esponenti e la famiglia di Racalmuto al fine di ottenere vantaggi per le proprie imprese operanti il settore edilizio e nel mercato del calcestruzzo. In particolare, tra il 92 e il 2012, l'imprenditore ha consentito agli esponenti dell'estodalizio criminale Ignazio Gagliardo, Calogero Gagliardo e Maurizio Digati di gestire l'impianto di calcestruzzo formalmente riconducibile alle società dallo stesso controllato in cambio dell'accrescimento e sviluppo della propria attività economica. Attività che, proprio grazie all'appoggio incondizionato di esponenti di spicco di Cosa Nostra Agrigentina, si è ulteriormente sviluppata ed è stata diversificata, ampliando così la galassia degli interessi economici di Romano. Nel tempo sono state costituite molte società, tra cui la Program Group Racing Engineering SRL, proprietaria dell'autodrome internazionale Valle dei Templi di Racalmuto, la Beton 640, Società Unipersonale ARL, la Mediterranea Cavi S.P.A. e la Romano Telecomunicazione S.R.L., queste ultime specializzate nella posta di cavi elettrici e telefonici che hanno guadagnato una posizione dominante nel settore delle opere di realizzazione di reti telematiche nelle province della Sicilia occidentale. Con il consenso di Giuseppe Falsone, il boss di Campobello di Licata, considerato in passato il capo di Cosa Nostra Agrigentina, Calogero Romano è inoltre fornito alle aziende riconducibili ad Angelo Di Bella e Vincenzo Leone, appartenenti alla famiglia mafiosa di Canicattì, il calcio e il struzzo necessario alla realizzazione dei lavori di costruzione del centro commerciale Le Vigne. Una volta divenuti collaboratori di giustizia di Gatti e Gagliardo, che erano stati informati direttamente dal Romano delle iniziative imprenditoriali che aveva intrapreso per la costruzione dell'autodromo di Racalmuto, hanno fornito dichiarazioni sul suo conto e sulle imprese a quest'ultimo riconducibili. Corruzione, quattro arresti tra Caltanissetta, Catania e Messina, accertati vari episodi di truffa aggravata, corruzione, turbata libertà degli incanti, peculato, abuso d'ufficio, falso in atto pubblico e spaccio di sostanze stupefacenti. Operazione congiunta a Caltanissetta, Roma, Catania e Messina, conclusione di attività investigative durate circa un anno, coordinate dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta e svolte dai finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziare e dai carabinieri. Quattro i destinatari di misure cautelari e agli arresti domiciliari è finito Flavio Rotondo, trentenne di Caltanissetta, figlio del cancelliere del Tribunale nisseno e dipendente occulto dell'Istituto Vendite Giudiziere di Caltanissetta e Catania. Sospensione dell'esercizio del pubblico ufficio per Orazio Rotondo, sessantenne di Santa Caterina, Villa Armosa, cancelliere del Tribunale di Caltanissetta. Gianluca Princiotto, 42enne di Messina, direttore dell'Istituto Vendite Giudiziere di Caltanissetta e Catania e il 51enne nisseno Umberto Amico, dipendente Istituto Vendite Giudiziere di Caltanissetta. Contestati i reati contro la pubblica amministrazione, accertati i vari episodi di truffa aggravata, corruzione, turbata libertà degli incanti, peculato, abuso d'ufficio, falso in atto pubblico e spaccio di sostanze stupefacenti. Un quadro di illegalità ma anche di sfruttamento, sottolineano gli inquirenti, di persone già oppresse da forti crisi finanziarie in quanto destinatari di procedure di pignoramento. Accertate anche violazioni relative alla vendita mediante procedura pubblica di beni sottoposti a pignoramento, realizzate dal gruppo composto dal Cancelliere del Tribunale di Caltanissetta, dal figlio, dal direttore dell'Istituto Vendite Giudiziere della Corte d'Appello di Caltanissetta e Catania e anche da un suo dipendente. Documentate numerosissime irregolarità, i dipendenti dell'Istituto si facevano sistematicamente corrispondere denaro contante dai debitori delle procedure, inducendoli in errore sull'aspettanza delle somme riscosse. In alcune circostanze suggerivano invece ai debitori esecutati stratagemmi, incluso l'utilizzo di prestanome compiacenti, per tornare in possesso dei beni pignorati, addirittura arrivando a gestire personalmente, a fronte della corrisponzione o comunque della promessa utilità di vario genere, la loro partecipazione alle aste telematiche. Da un lato i dipendenti dell'Istituto consentivano ad alcuni degli acquirenti, in particolare a coloro che sapevano essere prestanome dei debitori esecutati, di procedere con ritardo, anziché nelle 48 ore dal termine dell'asta, al pagamento del prezzo dei beni aggiudicati. Dall'altro, libretti intestati alle procedure esecutive, dove confluivano le somme provento delle vendite, venivano aperti con estremo ritardo anche di 5-6 mesi. All'interno dell'Istituto è stata poi rilevata la presenza, quale dipendente di fatto, di Flavio Rotondo, figlio dell'assistente giudiziario presso il Tribunale di Catania, in servizio proprio presso la Cancelleria delle Esecuzioni Mobiliari, quella a più stretto contatto con l'Istituto Vendite Giudiziarie. Quest'ultimo, per come accertato, oltre ad avere personalmente beneficiato di uno dei accertati episodi di turbata libertà degli incanti, aggiudicandosi i beni mediante l'utilizzo di un prestanome, si è reso responsabile dei reati di falso finalizzati a coprire alcune delle irregolarità commesse dai funzionali dell'Istituto. Nel corso delle perquisizioni è stato anche accertato un grave fatto di peculato, atteso che nell'abitazione messinese del direttore dell'Istituto sono stati trovati gioielli del valore di oltre 20.000 euro, pignorati nell'ambito di una procedura esecutiva pendente di fronte al Tribunale di Caltanissetta, estinta da oltre tre anni, e che in virtù di un provvedimento dello stesso Tribunale, avrebbero dovuto essere restituiti al debitore esecutato. Nel corso dell'indagine sono stati infine accertati vari episodi di spaccio di hashish all'interno dell'Istituto di Caltanissetta, commessi da Flavio Rotondo. Dopo il voto che ha sancito la schiacciante vittoria dei Cinque Stelle, i partigiani del PD chiedono che la Cassa dirigente del partito rimetta il mandato per consentire una fase di rigenerazione dal basso. Ascoltiamo Antonio Rubino. Noi pensiamo che occorra favorire una fase di rigenerazione del PD. Il PD è apparso come un soggetto indistinto, che non parlava più a un pezzo della società italiana, e gli elettori hanno scelto altre formazioni politiche dove si sono riconosciuti più. Questo ovviamente prevede che il PD faccia una serie e profonda riflessione su quello che è stato il partito, e la modalità con le quali è stato condotto il partito in questi anni. Però non pensiamo che la soluzione sia l'ennesima guerra fra bande armate. Noi pensiamo che occorra favorire una fase di ricostruzione e di rigenerazione che parte dal basso, che parte dai territori, che parte dagli amministratori locali, che parte dai militanti, che provino a riannodare i fili del legame sentimentale fra il PD e la sua gente. In che rapporto siete voi partigiani con il sindaco di Palermo, Leo Luca Orlando? Io ho quattro anni fa incontrato il sindaco e chiesi al sindaco di iscriversi al PD, perché per me il posto di Leo Luca Orlando è nel centrosinistra, e il PD è l'unico partito del centrosinistra ormai esistente nel paese. Quindi io penso che la presenza del sindaco sia un arricchimento per il PD. Io però allo stesso tempo chiedo al sindaco di essere riferimento all'intera comunità democratica e non di apparire come uomo di parte, o peggio ancora, di essere parte del partito democratico, perché questo non serve al PD. Adesso dovranno essere in qualche modo rivisti anche i vertici del partito? Mi pare che si vada verso un cambio dei vertici nazionali. Il segretario nazionale doverosamente si è dimesso, mi auguro che in lui non ci sia una voglia di rivalso e che non serva al PD. Vedremo se si farà un nuovo congresso come sembra essere in campo o se si farà una fase di sedimentazione individuando una figura che traghetti il partito o verso un clima più sereno che consentirà quindi un congresso anche più sereno. Il PD è in crisi un po' in tutta Italia, ma in Sicilia ancora di più? In Sicilia c'è stata ancora di più perché in Sicilia c'è stata la parte peggiore del modello renziano di gestione. In Sicilia si è pensato che in nome di un allorgamento teorico, perché poi i numeri hanno dimostrato il contrario, in Sicilia occorreva aggregare tutto il contrario di tutto, scelto politico di varie estrazioni che alla fine probabilmente ha portato il voto di quel personaggio ma ha fatto perdere centinaia di migliaia di voti da parte di gente che queste operazioni li ha giudicate sbagliate e nelle quali non si è riconosciuto. E ancora politica, Giuseppe Milazzo, capogruppo all'Assemblea regionale di Forza Italia, traccia un bilancio dopo il risultato elettorale per le elezioni nazionali nell'isola. Dalle regionali in Sicilia ad oggi, in pochi mesi, è cambiato tutto. Ma cosa è successo? Ma è successo quello che era prevedibile, un disagio sociale e quindi bisogna lavorare, rilanciare subito l'azione del governo, soprattutto regionale, per dare risposte soprattutto alle fasce più deboli. Qualche colpa la stanno dando in questi giorni all'interno proprio del suo partito? A chi guida il partito? Ma a proposito di questo? No, assolutamente. Il dato delle amministrative di Palermo ha segnato a Forza Italia il 14%. Il dato del regionale ha segnato a Forza Italia il 16% e ora abbiamo chiuso con un dato al 21%. Non c'entra niente la gestione del partito a livello regionale, anche perché l'attuale coordinatore regionale non è coordinatore della Puglia, della Calabria. Tutto il centro-sud è stato travolto. E perché è stato travolto? Proprio perché nel centro-sud c'è un disagio, c'è un malessere che è sfociato con un voto assolutamente di protesta. Si è parlato anche di candidature scollegate dal territorio. Può sempre capitare una candidatura scollegata dal territorio, quando tu metti un big nazionale, quando certamente forse qualche cosa si poteva impostare diversamente, ma non è questo l'argomento. E soprattutto i cittadini hanno penalizzato chi non lavora nel territorio, semmai. E quindi quali saranno i prossimi passi di Forza Italia per riconquistare consenso? I prossimi passi di Forza Italia è un rilancio e una riorganizzazione, diciamo, in termini di azione amministrativa e di risposte, perché i cittadini aspettano risposte. La Sicilia è da sempre l'isola prediletta dal Presidente Berlusconi, ma a proposito di questo Berlusconi cosa ha detto su questo risultato elettorale? Intanto la Sicilia è la regione più azzurra in termini di risultato. Il tema è che anche Berlusconi purtroppo è stato impossibilitato, perché voi sapete non può essere eletto in Parlamento e questo per noi è stato un'indica, perché se voi pensate che al Senato la nostra coalizione si chiude al 37%, certamente ben oltre i tre punti Berlusconi sarebbe andato se fosse stato candidato direttamente lui a Premier. Voi aprirete una discussione all'interno del partito su questo risultato? E potrebbero esserci dei risvolti? Io rifiuto il fatto che quando c'è un fenomeno di questo tipo bisogna cercare per forza un colpevole dentro il partito. Io vorrei ricordare che noi abbiamo chiuso al 23% e gli alleati, oltre alla Lega che è al 6%, una coalizione che si è frantumata. Se pensate al dato di noi con l'Italia e che si attesta al 2,5%, già la risposta ce la siamo data. Domani il Presidente Musumeci ha annunciato una conferenza stampa sull'operato del Governo regionale nei primi 100 giorni. A proposito dei primi 100 giorni, Forza Italia come si è mossa in questo breve periodo? Ha supporto il Presidente della Regione, è lui il capo del Governo, lui il Presidente del Governo, lui deve dettare l'agenda. Siamo contenti che il Presidente Musumeci farà e svolgerà una conferenza stampa per relazionare ai siciliani sui primi 100 giorni. Invece da uomo politico cosa prevede a livello nazionale? Si formerà questo Governo? Ma qua sono, come dire, una grande incognita. Il vero pallino nelle mani non ce l'ha nel Movimento 5 Stelle, nel centro-destra ce l'ha il Partito Democratico. se vuole svendere la propria identità per qualche cosina o se vuole mantenere l'incarico che gli hanno conferito, che gli ha conferito l'elettorato, cioè assegnandole all'opposizione. Secondo lei Forza Italia sarebbe disposta a creare un Governo con i 5 Stelle? Forza Italia all'interno del periodo del centro-destra c'è un patto, Berlusconi l'ha ribadito, Amen. Abbiamo finito. La parola si mantiene. Messina sequestro da mezzo milione di euro ad un imprenditore che non pagava l'IVA. Sigilli per tre immobili e depositi bancari di un venditore di auto a Barcellona Pozzo di Gotto. I finanzieri della tenenza di Barcellona Pozzo di Gotto hanno eseguito un sequestro preventivo per equivalente finalizzato alla confisca di beni per un valore pari a 461 mila euro, in esecuzione di un decreto emesso dal GIP del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, su richiesta della locale Procura della Repubblica. Il provvedimento è stato emesso a conclusione delle indagini svolte dalle fiamme gialle barcellonesi, a seguito di una segnalazione dell'Agenzia delle Entrate. Il riscontro e le ispezioni documentali eseguite hanno consentito di constatare che il legale rappresentante di una società di capitali operante nel settore del commercio di autoveicoli, con sede nel comune di Barcellona Pozzo di Gotto, pur avendo dichiarato per il periodo di imposta 2013 IVA a debito per l'ingente somma oggetto del sequestro, ne ometteva sistematicamente il versamento entro i termini previsti. Per tale ragione il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha delegato ai finanzieri della locale tenenza il sequestro di tre unità abitative e di depositi bancari di proprietà del legale rappresentante della società, che è attualmente indagato presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Barcellona per il reato di omesso versamento dell'IVA, che prevede la pena della reclusione da sei mesi a due anni. L'operazione appena conclusa dai finanzieri costituisce il classico esempio di attività di contrasto all'evasione fiscale, che produce effetti negativi per l'economia, ostacola la corretta concorrenza tra le imprese, danneggia le risorse economiche dello Stato ed accresce il carico fiscale per i cittadini onesti. Il consigliere comunale Fabrizio Ferrandelli torna all'attacco del sindaco di Palermo, Leo Luca Orlando, per le troppe cose sostiene che non funzionano in città. Ascoltiamolo. Quale simbolo migliore per indicare la vecchia politica se non quello di Leo Luca Orlando? Leo Luca Orlando ha fatto tante promesse ai palermitani, le ha fatto non dieci anni fa, vent'anni fa, da trentasette anni fa promesse a questa città perché la prima volta è stato assessore nel 1980, è stato rieletto pochi mesi fa per poi far scoprire ai palermitani che di Palermo non ne fregava nulla ma che si occupava soltanto di campagne elettorali, delle regionali prima, delle nazionali dopo, al di là degli esiti disastrosi che lui ha portato. Nel frattempo la città muore, la città soffre. Credo che chi come me lo ha combattuto, gli si è opposto, restando all'opposizione e non cedendo alle sirene di chi mi voleva candidato prima al Parlamento regionale, poi al Parlamento nazionale ma che ha deciso con currenza di restare a Palermo a rappresentare i palermitani che l'hanno sostenuto, è corretto che dopo alcuni mesi di attesa, sperando che questo sindaco si occupasse delle questioni, cominciasse una vera azione di verità dicendo come stanno le cose. Palermo è una città in cui i quartieri sono spenti e non illuminati, in cui le buche si incontrano sui marciapiedi come sulla strada e questi nuovi lavori sulla fibra stanno in maniera sconsiderata provocando incidenti e distruggendo la nostra città, in cui gli autobus non passano e le periferie sono sempre più abbandonate e nonostante queste si pensa di realizzare nuove linee del tram quando in realtà ne vediamo viaggiare uno vuoto. Vediamo una città in cui i conti del bilancio, come dicevo io, in campagna elettorale sono allarmanti perché le aziende municipalizzate e il bilancio del comune di Palermo ha chiuso nel consolidato con meno 40 milioni di perdita, non lo dico io, ma lo hanno dovuto accertare loro a seguito anche della nostra azione seria in commissione bilancio. L'acqua continua a essere razionata in molti quartieri della nostra città, al di là dello scongiuramento di razionamento. Insomma, la differenziata non è mai partita se non in alcuni quartieri di Palermo, lì dove è partita, spesso il conferimento in discarica va tutto insieme, beffando i cittadini che perdono fiducia. Cosa aspettiamo ancora per dire le cose per come stanno? Stiamo portando ai palermitani la vera faccia di questo sindaco, la vera faccia di chi l'ha sostenuto, la vera faccia della maggioranza che lo compone. Un sindaco che si era proclamato civico, che poi per un motivo di scambio elettorale non è riuscito, si iscrive al partito tradendo il mandato degli elettori. Io sono stato almeno chiaro, sono stato lì, avevo un programma, su quel programma non rinnegando la mia storia ho ricevuto sostegni non richiesti e non negoziati che ho ringraziato e che mi hanno consentito di avere la fiducia di tanti palermitani. Noi stiamo lì ad essere punto di riferimento credibile per tutti quelli che si sono accorti del blef e che vogliono costruire un futuro diverso. Quindi secondo lei non c'è una sola cosa che funzioni? Io credo che in questa città l'unica cosa che funziona è il capitolo del cerimoniale del sindaco. C'è quell'ufficio del comune che prepara inaugurazioni, tagli di nastri e cittadinanza onoraria proclamata a destra e a sinistra, ma poi in realtà una città si aspetterebbe da un sindaco. A Pre a Palermo uno sportello legale dedicato alle donne in difficoltà. Si trova presso la sede della Fisiscat Cisle in via 20 Settembre. Il suo scopo è quello di fornire gli strumenti necessari per tutelare la propria vita personale e familiare. Uno sportello legale dedicato alle donne per andare oltre le mimose e i simboli e passare alle iniziative concrete. Grazie ad una convenzione siglata con l'avvocato Maria Grazia Scimè, le donne che avessero bisogno di una consulenza potranno trovarla nella sede palermitana della Fisiscat Cisle in via 20 Settembre, tutti i mercoledì pomeriggio dalle 17 alle 19. Il nostro sindacato rappresenta tantissime donne, spiega Mimma Calabrò, segretario generale Fisiscat Cisle Sicilia. Ed era ormai indispensabile fornire alle nostre iscritte gli strumenti necessari per tutelare la propria vita personale e familiare. Esistono purtroppo casi di violenza fisica e psicologica. Le donne, d'ora in poi, potranno contare sul sostegno del sindacato, mai venuto meno, e usufruire dei consigli di un legale. Il percorso di denuncia è spesso doloroso. Le donne della Fisiscat non lo affronteranno da sole. Non solo assistenza a tutte le lavoratrici, ma anche un'azione di sensibilizzazione. Troppo spesso emergono casi di discriminazioni salariali e di carriera tra uomo e donna. Lo sportello legale verrà inaugurato domani, giorno in cui si celebra la festa della donna. Ho sempre speso il mio impegno, afferma l'avvocato Maria Grazia Scimè, al servizio delle donne, spesso poco consapevoli dei propri diritti. Con l'aiuto della Fisiscat Cisle, metterò a disposizione la mia professionalità per far capire loro che non bisogna accettare le situazioni, ma denunciarle. Intanto, questa mattina, le studentesse delle scuole palermitane hanno manifestato piena solidarietà a quante domani, 8 marzo, incroceranno le braccia in occasione dello sciopero globale delle donne, lanciato dalla piattaforma, non una di meno, in occasione della giornata internazionale della donna. Striscioni esposti fuori dalle scuole e aperti nelle aule nel corso delle lezioni per ricordare l'appuntamento relativo alla manifestazione di domani che a Palermo è stata indetta dall'Assemblea contro la violenza maschile sulle donne che partirà da Piazza Verdi alle 17.30. Un sistema capitalistico di chiara impronta patriarcale, si legge in una nota, che infligge violenza sulle donne attraverso il ricatto della precarietà nel lavoro, la mercificazione dell'immagine femminile, la lettura di fatti di violenza di genere in chiave emergenziale e l'assenza di un welfare costruito a partire dai bisogni delle donne. Elemento fondamentale del ragionamento, portato avanti dall'Assemblea nella sua costante attività in città, fatta di incontri di dibattito, iniziative simboliche, eventi culturali vari, è infatti l'idea che la violenza di genere sia caratteristica strutturale dei rapporti sociali e del contesto socioculturale in cui viviamo. Una manifestazione, quella di domani, che guarderà non solo alle donne, ma a tutte le categorie considerate subalterne, come tutte le molteplici minoranze e la comunità LGTB, affermano le studentesse dell'Assemblea contro la violenza maschile sulle donne, e che vuole essere parte di un processo in costante evoluzione, in cui le strade vengano intese come il luogo più giusto in cui tessere reti contro lo sfruttamento e la discriminazione, riappropriandoci e difendendo spazi di autonomia e libertà. A Palermo, domani 8 marzo, giornata della donna, il maestro di CAV Maga Mauro Labita organizza uno stage anti-aggressione femminile presso la palestra Fitness Time di Corso Alberto Amedeo dalle 15.30 alle 18.00. Da dieci anni organizzo in forma totalmente gratuita, sia per i club aderenti che per tutte le donne partecipanti, degli stage anti-aggressione. Li organizzo in collaborazione con la federazione International Crown Maga Institute, che rappresento in Sicilia come regional manager, e lo faccio molto volentieri per sensibilizzare e trasmettere dei valori positivi a tutte le donne che quotidianamente devono contrastare con atti di violenza. Dobbiamo sottolineare che non si tratta di lotta, proprio si tratta di piccoli accorgimenti per sfuggire a delle possibili aggressioni. Giusto, lo stage naturalmente ha l'obiettivo di trasmettere delle procedure che possono mettere in sicurezza la quotidianità delle donne. È chiaro che in uno stage conoscitivo non è possibile trasferire grandi competenze tecniche, che servono qualche mese per poter apprendere le basi. Però è possibile certamente imparare un codice di comportamento che possa essere di grande aiuto, soprattutto nelle uscite serali, nelle uscite in solitaria, eccetera. Questo è l'obiettivo, trasmettere appunto quelle che possono essere un valore aggiunto alle uscite che uno fa quotidianamente, quando si ritira da lavoro, quando si ritira dalla palestra o da un locale. Possiamo dare un piccolo consiglio? Ma il consiglio che do sempre io innanzitutto è quello di non spostarsi laddove è possibile in solitaria, cioè essere sempre accompagnato non necessariamente da un uomo, ma anche da un gruppo di donne, perché già il gruppo un po' scoraggia il possibile malvivente. Questo è quello che mi sento di dire maggiormente. Poi certamente seguire dei corsi di anteaggressione dà un atteggiamento, un autocontrollo, una lucidità mentale che aiuta moltissimo in momenti in cui le tensioni salgono velocemente. Dove si terrà questo corso e a che ora? L'appuntamento per domani lo do a tutti presso la Fitness Time di Palermo, un'associazione sportiva di dentatistica nella quale insegno tutti i martedì e giovedì. Domani faremo questo incontro dalle 15.30 fino alle 18.00 circa. Spero possiate partecipare in molti, possono partecipare in molti, perché l'obiettivo è proprio quello di rendere più persone possibile, e per quello il mio impegno di 10 anni, consapevoli sia dei rischi ma anche dei metodi con il quale è possibile ridurli. Anche per questa edizione è tutto. Vi do appuntamento ai prossimi notiziari di Media News. A presto. A presto. A presto. Autore dei sorrisi